Stireria Valstir ha sede a Valeggio sul Mincio ed effettua custodia, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento di produzione nazionale ed estera ed inoltre nel magazzino di Verona Sud provvede all'imballaggio degli stessi per l'immissione sul mercato. Prima dell'arrivo della pressa Miltec la gestione degli imballi in nylon era abbastanza caotica e problematica con costi aggiuntivi per l'azienda. Dopo l'arrivo della pressa Miltec abbiamo avuto un beneficio economico e anche logistico in quanto occupa meno spazio, c'è più ordine e abbiamo avuto anche un ritorno economico nel vendere gli imballi usati. Grazie